Durante questo valorizzoso tour vogliamo ringraziare tutti i nostri compagni di viaggio Debbie, Andrea, Michele, Giorgio, alla fonica, Gio! E poi Valentina, la tour manager, e Gianluca, per l'affetto E poi, naturalmente, chi è stato sul palco? Per tutto questo sudore, per tutta questa energia, per tutta questa voglia di stare insieme Al basso, quattro corde di fulore, mister Gianni Malone! Alle pelli, e agli ottoni, e ai pezzi di legno La cosiddetta anguilla di Comacchio È qui per voi, alla batteria, Luca Martelli! Tasto bianco, tasto nero, tasto bianco, tasto nero, tasto bianco, tasto nero, tasto bianco, tasto bianco Niente è come appare, soprattutto, sulle tastiere della mummia, mister Don Agliassi! E al chitarrone! Alle sei corde imprevedibili! Per voi, Kiko! Quando anche l'ultimo dei fiumi sarà stato prosciugato Quando anche l'ultimo dei pesci sarà stato pescato Quando anche l'ultimo dei campi sarà stato asfaltato Allora, e solo allora Capiranno Quei figli di puttana di mafiosi che governano questo paese Che i loro fottuti soldi Non li potranno mangiare Questa terra, tattora Che la fottiamo? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.